Ciao a tutti, buonasera. Torna TG Biancorosso, post partita Ancona, Recanatese, disputata questo pomeriggio alle 18.30 allo stadio del Conero, sono Gabino Novanta. Andiamo subito cari amici sportivi ad andare insieme ad analizzare il match dei Biancorossi, secondo il mio punto di vista, è stata un'Ancona quasi perfetta, l'Ancona migliore di questa stagione. Partiamo però con ordine nei primi 45 minuti di gara. La partita comunque l'ha fatta l'Ancona, Recanatese un po' non informissima quest'oggi del Conero, è stata brava comunque la squadra di Gianluca Colavito, anche tatticamente messa benissimo in campo dal mister consueto 4-3-3 con la novità Mattioli al posto di Cioffi in panchina, Energe e Spagnoli, il tridente offensivo a centrocampo con Isacco, Paolucci, Gatto in difesa, Cella, Pellizzari, Clemente che si sta confermando e a Gemang quest'oggi al posto di Martina Peruchini in porta. È stato un primo tempo comunque tutto sommato a ritmi elevati nei primi 20 minuti perché comunque l'Ancona è stata la squadra che si è resa più pericolosa, soprattutto nel reparto destro del campo con Energe che quest'oggi era veramente in forma smaiante, ho rivisto l'Energe di quando giocava Carrara, comunque un Energe che salta l'uomo, ha saltato sempre l'uomo, ha messo in difficoltà la retroguardia della Recanatese, ha provato due o tre conclusioni, concluse comunque di poco fuori, quindi un Energe veramente ritrovato da quando è tornato con la vita in panchina perché quando Nadea giocava poco. Per quanto riguarda il primo tempo comunque l'area canatese non è che si è resa pericolosissima, la retroguardia dell'Ancona ha tenuto bene, soprattutto Melchiorri, Sbafo che svaria ovunque, Lipari a sinistra, quello che è stato più pericoloso soprattutto nel secondo tempo. Passiamo alla ripresa adesso perché l'Ancona comunque è entrata in campo più determinata comunque rispetto ad una Recanatese veramente che non ha impenserito più di tanto l'Ancona anche se nel secondo tempo i leopardiani hanno alzato un po' il ritmo però l'Ancona ha trovato un gol magnifico, quello di Tacco con Albertone Spagnoli dopo una cavalcata sulla destra di Colisaco che ha saltato il suo diretto avversario con un tunnel bellissimo, poi ha messo questo cioccolatino per Spagnoli che di Tacco ha battuto l'estremo difensore leopardiano per l'1-0, il raddoppio è arrivato comunque su calcio di rigore dopo l'atteramento su Paolucci, giustissima la chiamata del direttore di Liga, era Spagnoli la piazzata, c'era arrivato il portiere Recanatese ma era troppo angolato il tiro di Spagnoli, forte angolato e non ci ha potuto far niente doppietta per quest'ultimo, arrivato a quota, salito a quota 6 gol in stagione ma è stata veramente un'Ancona incredibile nella ripresa, peccato per due ripartenze sfumate dopo l'entrata in campo comunque di Cioffi e di Peli, abbiamo un po' rischiato su una punizione di loro, bravo Peruchini, su un'altra conclusione di sbaffo se non ricordo male, loro sono stati più pericolosi nella ripresa, soprattutto a sinistra con Lipari che ha fatto una grande partita comunque, per il resto è stata brava la nostra retroguardia, c'è la Pellizzari a tenere a bada gli attaccanti leopardiani, a me è piaciuta tantissimo quest'oggi l'Ancona ha fatto una partita a un'intensità incredibile, devo dire comunque che questa squadra quest'oggi ha giocato tutti e due i tempi, di solito l'Ancona gioca metà tempo diciamo poi o nel primo o nel secondo tempo si spegne un po', invece quest'oggi è stata concentrata, ha meritato nettamente la vittoria su una recanatese che sinceramente mi aspettavo qualcosa in più ma ripeto l'Ancona è stata messa tatticamente messa bene in campo da Colavito ma i calciatori hanno dato il 110% in campo e si è visto arrivavano sempre primi sui palloni, c'era determinazione, c'era cattiveria, c'era quella voglia di vincere, un centrocampo comunque incredibile perché Gatto, Paolucci e Colisacqua hanno fatto una partita straordinaria, c'è poco da dire, lasciatemi elogiare anche Gianluca Clemente perché è arrivato con un po' di scetticismo in questa piazza, nella piazza di Ancona ma si sta venendo fuori anche lui come terzino di spinta ma bravo anche difensivamente perché in qualche ripartenza la recanatese è stato bravo interrompere il gioco dei leopardiani quindi è stata un'Ancona da 9 quest'oggi, qualche errore in uscita in 3 o 4 circostanze poi sbagliamo cose stupide, elementari, errori banali mettiamola così, speriamo di migliorare anche sotto questo punto di vista, lo ha detto anche Colavito nel post partita, nell'intervista che in certe uscite un po' così così però veramente è stata secondo me la miglior Ancona vista in questa stagione, quasi perfetta, bene così adesso c'è da rimboccarsi le maniche, bisogna stare con i piedi per terra ecco perché poi sabato prossimo si va a Ferrara contro la Spal, una squadra in crisi, sta facendo veramente un campionato difficile, i nostri...